non voglio perchè lui è scusato ma non si deve mangiare te la manda la Arlotta? ora ora guarda un legno guarda un legno guarda come tira non mi stai a mettere a quei figli d'elba non è venuto nulla guarda gli attaccano agli alberi non è stato attaccato questo? hanno degli attaccano agli alberi non è stato attaccato agli alberi guarda lì guarda che tira quei figli lunghi guarda non mi mangiare vieni che ti mangiare gente